Reconci insieme col Biancherosso TV Sport e con il professor Gianni Antonucci, se volete sottoporvi al suo test di baricità, o meglio da tifosi del Bari, chiamatecelo 080 501 9998, adesso vi possiamo regalare una bella rivista, il Bari, è uscita da pochi giorni, quindi ancora di grande attualità con delle belle foto della storia del Bari, ma anche dell'attualità. C'è un amico in linea, pronto? Certo, sono Lino. Ciao Lino, ciao. Saluto il mitico professor Antonucci. Grazie. Volevo sempre, prima di partecipare eventualmente al giochino che mi farà, come è andata a finire la storia di… l'hai contattato da parelli, perché lì mattino ho assistito la radio anch'io, poi l'ho telefonata, sono rimasto sotto a sciocco. Aveva degli impegni ieri, ha preferito non parlare, però ho capito che lui ha lanciato la pietra nello stagno, ma non vuole dare ulteriori spiegazioni, perché altrimenti le avrebbe date. Lui ha questa informazione, evidentemente non sta a lui spiegare il perché, però ci ha dato una sorta di input, ma io credo che ormai si debba attendere pochi giorni, perché ormai non credo che si possa andare avanti con le parole. Entro questa settimana, tutto al più all'inizio della prossima, bisognerà passare i fatti, quindi ancora un po' di pazienza e poi capiremo se quella di Pasquale è stata una provocazione, oppure è stata un'intuizione, oppure davvero una notizia. Tu hai notato che praticamente io in particolar modo e anche la rivista, il mensile che noi curiamo, non ci siamo per niente soffermati su questo episodio. Lo commenteremo, lo diremo soltanto quanto viene fuori la certezza, la definitività. Io sono sempre dell'avviso che qualsiasi contratto di acquisto e vendita prima si fa e dopo si commenta o si registra. Qui mi pare che stiamo parlando, 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 parlando. Questa dice che è la due diligence, a me mi viene da ridere, la due diligence mi sembra che questo il texano sia John Wayne del film Ombre Rosse che vanno dietro la dirigenza e lui spara gli indiani. Speriamo che non sia sparato. Ma tu che ne sei qualcosa, ci vuoi tempo per analizzare la due? No, per il resto, se questi portano i soldi si fa, è tanto semplice, non è chiacchiere, so chiacchiere, come diceva una bari vecchia, ma caruna riempiono la pancia. Aspettiamo, aspettiamo, certo Alessio Mora continua a dar segnali di grande fiducia rispetto alla chiusura positiva della tentativa. Non credo che faranno una fiducia. Già loro hanno avuto un grande successo con la pubblicità gratuita. Oggi, come oggi, penso che il milione di euro lo troveranno entro questo mese, le altre tre li troveranno, poi si vedrà con le fiduzioni. Penso che a me, se sono tutte queste premesse, direi così, valide, dovrebbe essere... Vabbè, test da tifoso del Bari al nostro amico in linea, fagli una domanda. Allora, facciamo una domanda. Quanti anni hai? Quanti anni? Quanti anni, quindi non andiamo... Quanti anni, allora subito, te la dico subito. Protti, quanti gol ha segnato in Serie A, solo in Serie A col Bari? Quanti gol ha segnato in Serie A col Bari? Noi dobbiamo dare le tre risposte, quelle da scegliere? Tre opzioni, dai. Allora, 25, 24, 31. Allora, 24. No, 24. No, 24 era stato soltanto un campionato, quello della retrocessione. Ah, io credo. 31, credo. 31, 31. Va bene, comunque è stato bello partecipare. Ciao, un abbraccio. 080-501-9998 per sottoporvi al test con il professor Gianni Antonucci. Intanto, qualche... Vediamo qualche cosa di... Le foto, le foto, dai, le foto. Vediamo le foto, questa è l'immagine dell'Amento, l'abbiamo vista già tante volte in settimana. Ci abbiamo qualche intervista oggi? No, non l'abbiamo mandato ieri in Ventura perché ha partito... Questa è il famoso 4 a 1, il famoso 4 a 1 del 20 gennaio 1991. Fu la prima partita che il Cagliari giocò al San Nicola e questo è un gol di testa, un intuffo di Soda. Di Sola, Sola. No, Sola. No, questo è Soda. L'attaccante è Soda. Soda. E quella era Soda. Soda è il centrocampista, infatti. Soda, questo è il gol di testa e poi c'è stato uno in precedenza di questo gol che fu il secondo. C'è l'altro gol anche di Gio Paolo, se possiamo vederlo, giusto? Gio Paolo segnala l'altro gol. Soda.